Tunisia-Marsala, la rotta del business, scominato un'organizzazione che gestiva il traffico di migranti clandestini, 12 indagati. Violenza sessuale, un arresto a Marsala, si tratta di un tunisino che avrebbe abusato di una turista straniera. Fardegliana riapre la sala lettura, sono stati infatti ultimati gli adeguamenti del servizio antincendio della biblioteca. Buonasera e ben ritrovati a questa edizione serale del nostro telegiornale, in apertura la cronaca. Smantellato un gruppo dedito a fare arrivare migranti clandestini dalla Tunisia a Marsala, sono 12 gli indagati in servizio. Altro che barconi che rischiavano di affondare alla prima onda che incontravano, gommoni fatiscenti e stracarichi che imbarcavano acqua, per i migranti clandestini che raggiungevano le coste trapanesi, venivano organizzati viaggi da VIP. Bastava mettere mano al portafoglio e sborsare cifre che variavano dai 3 ai 6 mila euro. Ad organizzare le traversate di esseri umani, un gruppo composto da due cellule e stretto contatto tra loro. Una operava a Marsala, l'altra invece in Tunisia. Il sodalizio è stato smantellato all'alba di oggi a conclusione di una complessa indagine coordinata della direzione distrettuale antimafia. In stato di fermo sei italiani e sei tunisini ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. A condurre l'attività investigativa le squadre mobili di Palermo e di Trapani, il personale del servizio centrale operativo e della sezione investigativa del capoluogo siciliano. Il gruppo, che operava già a partire dall'agosto del 2022, faceva arrivare sul litorale marsalese migranti che provenivano dalla Tunisia. Viaggiavamo come se fossimo VIP, il racconto di alcuni testimoni. Il servizio di trasporto infatti era rapido e confortevole grazie a tanti dotati di motori di grossa cilindrata. A bordo non più di 20 migranti per volta. Al timone esperti piloti che conoscevano alla perfezione la rotta da seguire. La cellula marsalese, composta da italiani e tunisini, aveva il compito di mettere a disposizione una tante e di reclutare gli scafisti scelti, soprattutto tra tunisini che vivevano in Italia. Tra i componenti, un tunisino richiedente protezione internazionale, indiziato di essere uno dei principali promotori dell'organizzazione, nonché ritenuto dagli esiti emersi dalle attività di indagine, né un ex appartenente alla polizia tunisina. Era lui ad avere contatti con il capo della cellula tunisina. Quest'ultimo procacciava i migranti, decidendo condizioni e prezzo del trasporto dalle coste settentrionali della Tunisia a quelle siciliane. Frattanto, nel corso delle indagini, erano già stati arrestati otto presunti scafisti, tutti di nazionalità tunisina, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Gli arresti in flagranza sono stati eseguiti nel corso di quattro distinti sbarchi avvenuti sulle coste marsalesi, rispettivamente il 29 giugno, il 14, il 24 agosto e il 15 settembre. Quattro di loro sono stati indagati anche per resistenza a navi da guerra, avendo tentato la fuga, nonostante l'intervento di navi della Guardia di Finanza, giunte in soccorso dei natanti. In un'occasione, gli escafisti avrebbero ordinato di sparare contro la nave militare dei razzi luminosi, i migranti che il suo dalizio avrebbe introdotto clandestinamente in Italia sono 73, tra cui 12 minorenni e 6 donne. Tra i clandestini, 19 sono stati tratti in arresto per reingresso illegale nel territorio nazionale. Inoltre, quattro migranti sono stati arrestati in esecuzione di un provvedimento definitivo di condanna dell'autorità giudiziaria per reati contro il patrimonio in materia di stupefacenti. La polizia ha anche eseguito in occasione degli arresti il sequestro di quattro gommoni, tutti i natanti messi a disposizione dalla cellula italiana attiva a Marsala. Dal complesso delle acquisizioni investigative sarebbe emerso il passaggio di una somma di denaro di circa 90 mila euro a favore di un indagato italiano ad opera di uno dei promotori della cellula tunisina. Rimaniamo sempre sulla cronaca. Un tunisino di 32 anni è stato arrestato a Marsala con l'accusa di violenza sessuale. I dettagli nel servizio. L'avrebbe conosciuta in un locale invitandola a bere un drink. Il suo modo di fare è garbato e gentile, non ha per niente insospettito la giovane turista straniera. Anzi, quell'uomo aveva conquistato la sua fiducia e quando l'avrebbe invitata a fine serata a fare una passeggiata, lei ha accettato. Condotta in luogo buio e appartato, però, sarebbe stata costretta a subire un rapporto sessuale. I fatti, risalenti all'estate scorsa, si sarebbero consumati a Sorrento. Ora, la svolta. Il presunto aggressore, un 32enne tunisino d'origine, infatti, è stato arrestato a Marsala, dove risiede, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP, su richiesta della procura di Torre Annunziata. È accusato di violenza sessuale e lesioni personali aggravate. Le indagini hanno preso il via in seguito alla denuncia asporta dalla vittima, che avrebbe raccontato di essere stata aggredita per la strada, in piena notte, da un uomo che aveva appena conosciuto. Ad incastrare il tunisino, le immagini riprese dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza. L'indagato, che all'epoca dei fatti lavorava come dipendente in un negozio di Sorrento, è stato rintracciato e arrestato a Marsala, dove aveva fatto rientro, a conclusione della stagione estiva. Ora è rinchiuso nelle carceri di Trapani. Adesso il giallo al cimitero di Trapani sparisce una lapide e la famiglia denuncia tutto ai carabinieri. È una vicenda da contorni kafkiani, quella che si è verificata al cimitero di Trapani. A raccontarla una donna che recandosi al Camposanto nell'anniversario della morte della propria madre per portarla un mazzo di fiori scopre che era sparita pure la lapida. Sgomenta si è rivolta agli uffici per cercare di capire cosa fosse accaduto. Un buco nell'acqua. Un vero e proprio giallo, insomma. Negligenza, superficialità o qualcosa di più grave dietro a questa vicenda tutta da decifrare e che peraltro non è la prima parola adesso alla magistratura dal momento che la donna ha sporto denuncia ai carabinieri. Un giallo è risolto al cimitero dove senza autorizzazione alcuna è stato estumolato il corpo di sua mamma e nonostante il bonifico erogato a favore dell'amministrazione comunale e quindi del cimitero. Cosa è accaduto il 16 febbraio? Il 16 febbraio è accaduto che mi recavo con mio figlio per andare a portare dei fiori sulla tomba di mia madre dove all'interno dell'oculo con mia madre c'erano i resti di mio padre e vado e arrivo sul posto non trovo niente non trovo lapide non trovo proprio l'oculo vuoto allora all'improvviso ho detto che è successo qui perché noi fino ai primi di febbraio avevamo rinnovato il posto avevamo rinnovato tutto il bonifico era stato fatto in regola nei tempi previsti di legge quindi vado e mi reco presso gli uffici gli uffici non sanno darmi risposta mi dicono che era impossibile mi hanno preso non mi hanno creduto perché mi hanno detto signora non è che ha sbagliato strada ci sono 30 anni che vado lì non è possibile che sbaglio strada mi reco con un operatore del cimitero per andare a vedere che veramente l'oculo di mia madre era vuoto si accertano di questa cosa loro avevano già la pratica in mano tutta completa e quindi hanno confermato che eravamo tutto in regola compreso il bonifico quello che è successo non lo so so solo che il giorno che noi abbiamo fatto il bonifico loro in contemporanea perché era il 2 di febbraio hanno fatto le stimolazioni di mio padre e di mia madre al momento le ossa dove sono? le ossa loro dichiarano che siano in una stanza come ossaia comunale io quello che ho visto per me non è una stanza comunale perché è un sottoscala di un colombaio a due piani insieme ad altri sacchi perché sono messi in dei sacchi con solo nome e cognome di mia madre data di nascita e la data dell'estumolazione io a questo punto dubito pure se abbiano fatto qualche altro errore infatti quando ho fatto la denuncia ai carabinieri ho chiesto l'esame del DNA per essere sicura che quando daremo di nuovo una degna sepoltura e mi auguro che la procura faccia nei brevi tempi possibili e per dare di nuovo una degna sepoltura a mio padre e mia madre quindi io chiedo l'esame del DNA perché voglio essere sicura che quando porterò un fiore siano proprio i resti di mio padre e di mia madre celebrata oggi a Trapani la 17esima giornata nazionale del Braille in coincidenza con la giornata mondiale della difesa dell'identità linguistica promossa dall'UNESCO ricorre oggi la giornata nazionale del Braille quale momento di sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti delle persone non vedenti tante le iniziative promosse dal Consiglio regionale dell'UIC nelle sedi territoriali siciliane domani presso i locali dell'istituto comprensivo Antonino Di Stefano si svolgerà un incontro ed un concorso di disegno in collaborazione con il Lions Club Trapani rivolto agli studenti della scuola per celebrare le diversità e promuovere l'uguaglianza a Trapani praticamente il Lions Club di Trapani ha organizzato questa giornata insieme all'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti che è preseduta dal signore Antonio Struppa e insieme abbiamo cercato stiamo cercando di dare enfasi a questa giornata perché tutti riusciamo a capire che è un linguaggio che riesce a migliorare la qualità della vita delle persone non vedenti e ipovedenti è importantissimo noi spesse volte abbiamo fatto donazione di targhe proprio nei musei della città per migliorare il turismo e migliorare soprattutto la fruizione di alcuni luoghi che evidentemente sarebbero impediti in qualche maniera a queste persone che hanno difficoltà visive quindi appuntamento domani alla Lamagna dell'Istituto Comprensivo Antonino Di Stefano per lanciare questo concorso e per i ragazzi per i ragazzi sicuramente sensibilizzarli su questo tema perché ovviamente è una qualità della vita che deve essere migliorata per le persone che sono non vedenti ma evidentemente bisogna fare anche una sensibilizzazione nei confronti dei ragazzi che hanno bisogno di fare anche dei controlli periodicamente in maniera tale poi da non ritrovarsi con una patologia grave e quindi la prevenzione è importante il messaggio è anche quello quello che lanceremo domani oltre ad approfondire il tema della vista anche il tema della prevenzione Rimaniamo a Trapani e riapre a pubblico la sala della lettura biblioteca fardegnana dopo vari adeguamenti del servizio antincendio Riapre finalmente al pubblico la sala lettura della biblioteca fardegnana ad annunciarlo attraverso l'assessorato alla cultura è il comune di Trapani la sala lettura in questi mesi è stato oggetto di alcuni lavori sul servizio antincendio condotto con l'obiettivo di garantire la sicurezza di tutti gli utenti un ambiente ancora più sicuro e accogliente dunque per i cittadini e gli appassionati lettori trapanesi la biblioteca comunale è un patrimonio vivente per la nostra città e la riapertura della sala lettura al pubblico segna un momento di grande importanza a non ho detto il sindaco Giacomo Tranchida a Rosalia Dalì assessore alla cultura del comune di Trapani con delega alla biblioteca fardegliana nel corso degli ultimi periodi abbiamo dedicato notevoli sforzi per mettere in sicurezza la struttura implementando un sistema antincendio all'avanguardia e ottenendo tutte le necessarie autorizzazioni si tratta di procedure che non dipendono esclusivamente dal comune ma che coinvolgono anche altre istituzioni deputate a concedere tali autorizzazioni la definizione di queste procedure ha richiesto tempo ma tutto è stato eseguito con attenzione per garantire la massima sicurezza vorrei rassicurarvi sul fatto che la biblioteca non è mai stata chiusa durante questo processo i dipendenti hanno continuato a garantire in maniera impeccabile i servizi abituali tra cui prestito la consultazione l'archiviazione gli eventi le presentazioni e la partecipazione a progetti speciali sarà dunque possibile vivere nuovamente tutte le sale della nostra meravigliosa biblioteca concludono tranquille da lì siamo pronti a riaprire le porte di questo spazio prezioso con una dedizione ancora più forte alla diffusione della cultura e della conoscenza e con tante novità la biblioteca subirà una trasformazione digitale con nuovi servizi e questa era l'ultima notizia io vi ringrazio per averci seguito adesso la linea Vallo Sport buonasera da tutti voi